Ehi la giurma, io sono Mazetess ben ritrovati qui su Expeditions Room e andiamo a parlare con l'Ukullo visto che abbiamo fatto Jonathan, Jason, per tornare all'accampamento visto che abbiamo accolto tutto, fatto tutto, via Let's go Abbastanza dai Non posso negare, non posso smentire Trattamente ho sbloccato anche le cose dei drop di Twitch Tranne i due che non si otterranno mai più probabilmente Perché il tizio ha fatto tipo streaming due volte e poi ha detto ciao per sempre E quindi niente, ciao per sempre E' una tutta roba estetica Andai sulla tre Valor comes easily with these brave people at my side My companions deserve the praise I was just performing my duty La humility è veramente virtuosa Abbiamo sia sotto controllo sia Lesbo che l'Asia minore I pirati sono sdentati Ok, l'Asia minore non è ancora sotto controllo Ok, l'Asia minore non è ancora sotto controllo Ok, l'Asia minore non è ancora sotto controllo Non lo sappiamo Ah ok, superavano nettamente come numero la legione di Cotta Ok, stanno assediando la legione quindi dobbiamo salvarli Quando partiamo? Facciamo le preparazioni Alla prima luce dell'alba Ok Mi sembra onesto Che obiettivi proprio in su Si conquista l'Asia minore Tipo come fosse Vai a prendere il caffè Questo non è il nostro campamento tra l'altro Perché non avevamo la nostra tenda E non possiamo fare upgrade qua No Quello di lo c***o qua E niente, andiamo Qua ci dice Scout Asia minore with your pretorians To find a suitable outpost location Ah, quindi dobbiamo impiazzare il nostro outpost in Asia minore Va bene Quindi abbandoniamo Lesbo Immagino Sì, i pretoriani potrebbero andare se ne se Hanno un morale troppo basso Un approval dropped too low Settore conquistato? Cosa? Lesbo? Ok Ma la warehouse l'avevamo già presa, no? Ma e mo? Che dobbiamo fare? Ma siamo a Mitilene o siamo a Dallopullus? Scusami Ma vediamo la warehouse che succede No, dobbiamo muoverci Gli edonistici approvano Cioè il dis approvano I pretoriani di Lesbo Stanno ancora Stanno nascondendo qualcosa di Prezioso Vicino a Calloni Ah, quindi è un'altra missione Cioè è un... Ok Sono questi punti iscrivativi Ok Cioè c'è il punto sconativo là? Non lo so Forse che ne sono indispensabili almeno tre Dobbiamo portare almeno tre Ma non so perché Cosa dobbiamo fare ancora qua al warehouse? E poi come facciamo ad andarcene in Asia minore? Siamo qua a Lesbo e basta Dice che stanno ancora nascondendo delle cose Ma abbiamo già tutto esplorato qua L'altra volta Cosa c'è qua? Il bruciato è la roba? No Cos'è? Token di Levitino Hanno sepolto i morti Hanno bruciato i morti Ma poi Dobbiamo prendere altra roba Scusate Abbiamo preso anche la roba là sotto C'è C'è altro che dobbiamo sapere? No No Qua è tutto a posto Non lo sto capendo Ma io me ne andrei Qua non si può andare Qua sopra i tizi li avevamo schivati Quindi Qualc'è un foro? No non c'è niente Perché ci fa andare di nuovo qua E non ci fa andare a tornare a casa? Cioè non tornare a casa Ma Andare in Asia minore Ma in Asia minore qui come ci vado? Devo chiamare il Il Non 3 Triarca si chiamava quello della nave Sì Dai Muovetevi un po' di più Adesso bestie e Sineros Sembrano uguali Chi è uno? Chi è l'altro? Bestie è quello più alto Mi sa Sì Questo è Sineros Andiamo Ma dove dobbiamo andare? Se conquista la Asia minore Ok Ma Tipo Fai un outpost Ma Eh Eh Sono molto perplesso E qua Warehouse Continua a restare sulla mappa Non so perché Calloni Carrison Cosa vuol dire Garrison Rison Ah Per riportare la legione là Perché era ancora Mitilene Ehm Ma dobbiamo andarci anche noi Quindi Ma no Si è solo spostata Forse dobbiamo parlare con la legione Ma Mi ha detto Semplicemente Vai là Con questa Asia minore Dobbiamo muoverci subito Ehm Ma io sono su un'isola Ah Ho ripreso acqua Ok Ma Ehm Ehm E questo è buono Però per esempio I cose Non posso Fa Ehm Che scatti Need something No Scusa No Io volevo Volevo entrare qua Come Poi ci interagisco Poi ci interagisco Ah ok Ehm Va Allora Allora noi abbiamo bisogno di Possiamo sbloccare qualcosa No Ci serve Tanneri e Lambermeel Che non abbiamo Questi già ce li abbiamo Di base Arvori Non abbiamo Non abbiamo Niente Castle Music Ah ok Abbiamo i colori Delle robe Adesso Tipo Sbloccare Sì Questo me lo ricordo Era di un youtuber Strano Optional Ok Colori della regione Emblema della regione E Ah Poi abbiamo anche gli altri L'aquila Poi abbiamo Egizio Galea Colonna greca Stato del grifone Stato del discerpo Tchk nordic Treasure chest Mettiamo Tchk nordic Così E Della regione Questo Lesbo Ah perché abbiamo sconfitto Quelli di lesbo Allora possiamo prendere L'aquila di lesbo Mi piace I colori della regione Mettiamo questi Legge Victix Sprite Stoic Dai Andiamo così Dei pretoriani No pretoriani Mettiamo questo E poi Ma me li sta Me li sta tenendo No mi sa di no Metti questo Fai selezione Ok I colori della regione Mettiamo questi L'emblema di pretoriani Mettiamo No questo qua forse Imperial eagle E Il colore di pretoriani Mettiamo Questi Questi Azzurrini Che non c'entrano niente Ah che sono di lesbo Va bene E Va bene Ma upgrade Non possiamo farne Qua possiamo mettere Refreshed Available Recruits No ma non voglio Ah Ma devo mettere i miei Scusa E i tizi Ma non voglio mettere i miei Che mi servono Scusa un attimo Ho preso quegli altri Che sono completamente inutili Oh là c'è il mercato Party management Ah no l'inventario Perché ho raccolto Quell'oggetto là Eeeh E' bruttissimo I nemici uccisi da te Moreranno sempre Nel modo più violento possibile Però da Ho un sacco di punti Lo do a bestia Che è un E' un pazzo isterico Ma dove va messo Ah come Bestia sarà il pazzo isterico Che smembra la gente A caso Non sto capendo niente Comunque di cosa bisogna fare Mi ha detto Conquista l'asia minore D'accordo Ma Tipo Siamo in un'isola Cosa Cosa dovrei fare Ah questo è il colore dei legionari Mentre quello della legione E questa roba qua Ok Quello dei capi è blu Con L'aquila sopra Poi c'è il teach Che un oro Di che caso Lel Vediamo un attimo Come sta Tipo con il No con il grifone Con Eeeh Questo Quella statua Di Zeus Serapide E' molto bellino Ma ci metto Comunque Vediamo questo Ok La galea No ok Teach Che un oro Di che vado Fa un po' ridere Però Eeeh Fa un po' auto Non so che cosa devo fare Scusatemi Ma Devo parlare con la gente Cosa vi dice la gente Legate No questo è lo solito Dialogo Della trotto Tra l'altro sta andando Molto scattino Mi piace Non vorrei abbassare la qualità Ma mi sa che dovrò farlo Ah ok Una cosa urgente Va bene Sì è vero Sono in gamba Ok Dobbiamo pacificare La regione Eeeh Allora Compi quello che è necessario Ok Capisco Fammi sapere Se c'è una situazione Di questo genere Ok Ma qui abbiamo una ribellione In questo momento Non lo sto capendo Come è il manpower E' un po' di potenza Ma abbiamo enough men Per farlo E' un po' di potenza 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 credo di sì ma dovrò posso sapere se forse l'outpost management parti di questi a dove tele qua scusatemi fino a massimo di 4800 io siamo a 2.500 pochissimo però non posso mettere tutto con la gente ho pochissimi soldi e spediamo mille di indini per prendere un po di gente ma no adesso pochissimi con mille cioè mille due prende solo 34 persone e vado ma questi invece sono agli ingiured ok in realtà siamo a 3.000 circa 3.600 ma se io prendo a questi proprio non sono più comandanti se io me li metto qua però se io vado qua e a posso mettere anche loro tipo le baracche per allora facciamo così facciamo anche quelli li metto via allora qua questi li mettiamo qua però ne assumiamo un altro paio che possono servirci tipo alla sopra ci dice ok abbiamo uno per qualsiasi situazione si riprendiamo un altro che non ci piace e lo mettiamo a sistemare le 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 robe allora deve essere uno con un buon livello sembra perché amassati livello 2 o princeps princeps pleased riano scetico crafty architect se nel workshop a ok come dal region scavenger ah si è segnato la mia tenda buono questo non so se serve a prendere questo che sa fare tante cose di medicina indifferente vabbè oh ti assumiamo adesso ne abbiamo uno in più e l'ha messo qua per forza adesso se noi andiamo non abbiamo più soldi non so se è 75 tra l'altro tu oranius tu refresh the available recruits ma le reclute sempre dei pretoriani però scusami o tipo che vi si porta più gente tipo come numeri della dispensary non hai pretoriani feriti quindi il dispensary non serve per curare i miei legionari e le miei legionari come li curo solo per i pretoriani è tutto molto molto confuso non ho niente a far qua ma come dovete andare con l'ucullo ci ho parlato con i miei ci ho parlato chiudere il video mi dispiace che siamo così a bambanare per 20 minuti dai pronto ah forse devo leggermi la quest bene effettivamente ci sarà scritto magari forse non è specificato nei punti brevi forse qualcosa è il dialogo che mi son perso possibile sì ah perché qua dice va bene e il punto tra l'altro è laggiù come cavolo ci arrivo io qua c'è anche il punto che dice che non puoi andare questo allora leggiamo un po' pacificare l'isola e andare a mitilene ma abbiamo già fatto questo ecco con che raggio maio io non posso andare qua eh vedi non è pacificato cos'ha eh ma vaffanbrodo le navi là vuol dire che posso andare con le navi ma dimmelo prima ma vaffanbrodo ma oh spiegarle ste cose no eh va bene dai ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio mi spiace che abbiamo un po' perso tempo ma questo non era per niente chiaro ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti buona giornata ciao a tutti